Da 16 anni sono in graduatoria per una casa popolare, non ho voluto infrangere la legge e ora vogliono buttarmi fuori. Allaimo, lo IACP spieghi dove sono finiti i soldi per ricostruire il palazzo in via Redentore. 8 marzo, fessa della donna, inaugurazione centro antiviolenza. Denunciato pusher Nisseno sorpreso dalla squadra mobile con 52 grammi di marijuana nel giubbotto. Polo civico e centristi, difficoltà ad operare in consiglio comunale o struzionismo del PD. 67 stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica all'Istituto Manzoni-Juvara, perfetto connubio. Nell'ex caserma dei carabinieri a Santa Barbara, oltre a vivere le famiglie, gli ex proprietari del palazzo di via Redentore, vive anche la famiglia Iacona, con noi Giussi Iacona, mamma di due figli, un terzo in arrivo. Lei è un caso un po' eclatante perché lei è da 16 anni in graduatoria, non ha mai occupato abusivamente e vive qui perché qui l'ha mandata il comune. Con quale motivazione l'ha mandata qui anni fa? Allora io voglio dire intanto che sono consapevole di essere qui temporaneamente, ma a questo c'era un motivo. A me dovevano assegnare l'alloggio che mi spettava di diritto. Questo in tutti questi anni non è successo. Io sono qui e non so dove andare. Quindi se a me vogliono che lascio la casa, io sono disposta a lasciare pure domani. Ma io sono consapevole pure di avere tanti diritti perché sono in graduatoria. I miei documenti ci sono. Quando sento Campione dire dobbiamo vedere per le graduatorie, andranno a quelli in graduatoria. Io sono in graduatoria. Quindi propongo all'assessore di vedere cosa si può fare per me, intanto perché ha diritto, perché si fa tutto per tutti, tranne perché ha i legittimi diritti. E io li ho. Tra l'altro voglio ricordare all'assessore che aspetto un bambino. Sono stata pure male. Sono finita in ospedale. Non è una situazione che posso reggere. Quindi la soluzione da prendere è immediata. Perché io non ce la faccio più a sostenere questo. Signora, quindi come abbiamo detto all'inizio, lei è venuta qui, l'ha mandata qui il sindaco Campisi quando sono venuti qua gli abitanti di Via Redentore, qualche mese dopo. E lei era stato detto, dato che lei è in graduatoria, non ha mai occupato abusivamente, vada lì in attesa che ci siano gli sgomberi delle case abusive e le diamo la sua casa. Sono passati diversi anni. La sua casa non è mai arrivata. Lei non ha mai pensato di infrangere la legge, però adesso si trova in questa situazione assurda. Sì, mi trovo in questa situazione assurda. Il problema è che nessuno mi dà ascolto. Io sono stata al comune migliaia di volte. Sono stata al prefetto e non mi ha mai ricevuto. Anche ieri sono stata l'altro ieri. Mio marito ha portato pure il prefetto che mi hanno fatto in ospedale. Non mi ha mai ricevuto nessuno. Non ho avuto una risposta da nessuno. Quindi io vorrei chiedere una cosa. Ma chi ha realmente diritto ad avere un alloggio? Cosa deve fare? Deve fare pure l'abusivo? Non lo so. Sulla vicenda dell'ex caserma dei carabinieri a Santa Barbara interviene anche il consigliere comunale di Astag. Diventerà bellissima Valeria Laimo. Intanto mi preme dire e ringraziare voi che avete dato risalto a questa situazione. L'ordine di sforatta ancora non è stato emesso. Noi chiediamo che non venga emesso. Infatti ho già chiamato il sindaco per chiedere e concordare un incontro anche a seguito del parere dell'ufficio legale. Perché io capisco che la situazione è difficile, che c'è un ente che ha preso degli impegni con un atto notarile e che ad oggi non è stato portato avanti. Loro aspettano da due anni di avere quanto è stato loro promesso. Sono passati sette anni. Sette anni. Quindi diciamo che se l'atto era stato fatto in via momentanea, come è stato ribadito dall'assessore Carlo Campione ieri, diciamo che il momentaneo doveva essere uno o due annetti, il tempo della ricostruzione in via Redentore. Sette anni è un tempo molto e troppo lungo e ritengo che loro abbiano aspettato anche troppo per avere il loro diritto alla casa. Ieri l'ex sindaco Michele Campissi ha detto che i soldi allo IACP c'erano per ricostruire in via Redentore. Sì, questo è un problema. Io non capisco perché l'IACP dichiari sempre di avere i fondi ma poi non provera mai a quelle che sono le promesse. Ha dichiarato sette anni fa di avere i soldi per demolire e ricostruire le case in via Redentore e non è stato fatto. Oggi dichiara di avere dei soldi per mettere in sicurezza un immobile che mi sembra sia, io ieri ho fatto un giro per gli immobili, mi sembra sia stato fatto bene, quindi non ritengo che ci sia la necessità di provvedere. Anche perché ricordo all'IACP, se ce ne fosse bisogno, forse attualmente non hanno fatto un giro, che ci sono degli immobili che sono totalmente fattiscenti, forse se vogliono li posso anche accompagnare. Quindi quando l'assessore campione mi dichiara che forse serve mettere il montacarichi, io chiedo all'assessore campione di fare un giro per quartieri popolari che sono più prossimi al nostro centro storico, parlo di viaggi Birecosmi, parlo degli immobili in via Puccini, vogliamo ricordare che questi residenti sono ancora con i puntellamenti dentro casa, quindi se abbiamo anche centomila, duecentomila euro, investiamoli in un altro modo e non in questo edificio. Io penso che i residenti di questo immobile sono anche disposti a lasciarlo. l'importante che è, carta canta, venga ricostruito l'oro, l'immobile in via Redentore. Se l'IACP vuole rilasciato l'immobile, trovi un'altra soluzione, e cioè se questi devono essere dati seguendo una graduatoria a chi ne ha diritto, che si trovi un'altra soluzione a queste persone, altrimenti l'IACP ci spieghi dove vanno a finire soldi di canoni non dovuti dagli abusivi, i soldi dove vanno a finire, dei lavori che promette ai cittadini e poi io chiederò al mio ente di avere l'accordo di programma che nell'atto notorile viene richiamato e il progetto dei 14 alloggi che oggi non sono stati costruiti. A Caltanissetta, in Viale Trieste 132, il centro antiviolenza gestito dall'Associazione Galatea, con noi Anna Giannone. Chiunque avesse bisogno di un aiuto, qualunque donna volesse rompere il muro del silenzio e ribellarsi alle violenze subite, questo è il numero di telefono 380-19-29-687. Oggi 8 marzo, festa della donna. E quale modo migliore per inaugurare il centro antiviolenza che già esisteva, siamo già stati qui, però oggi viene inaugurato con i nuovi arredi? Sì, abbiamo scelto questa giornata simbolica dell'8 marzo per inaugurare finalmente, dopo le grandi lotte che abbiamo avuto per affrontare la burocrazia e la resistenza. 8 marzo che vede in tutto il mondo degli scioperi promossi dai centri antiviolenza e dalle associazioni femminili per portare avanti i diritti delle donne e fare riacquistare all'8 marzo la sua violenza di giornata di lotta e di conquista dei diritti di parità per le donne. Ultimamente si parla sempre di più della violenza sulle donne, prima magari c'è sempre stata, però prima non se ne parlava. Infatti proprio quest'anno l'8 marzo ha assunto una valenza diversa. Sì, stiamo via via con il nostro lavoro cercando di cambiare una cultura che ha visto sempre le donne come succubi, come diverse dall'uomo ai inferiori. Per questo motivo noi ci stiamo impegnando enormemente anche con progetti nelle scuole e insieme alle forze di polizia, all'autorità giudiziaria, proprio per permettere che questa strada si spiani. Parliamo adesso del centro e dei nuovi arredi. Un centro molto accogliente, lo abbiamo già visitato. Sì, speriamo che il centro possa trasmettere la nostra accoglienza, la nostra passione per le donne e i bambini, perché adesso abbiamo anche una stanza che è dedicata a loro, perché quando arrivano le donne sono spesso mamme e quindi i bimbi possono giocare in una sala attrezzata adeguatamente. Ricordiamo quindi a chi possono rivolgersi le donne in difficoltà. Le donne in difficoltà possono rivolgersi al centro antiviolenza, che dà loro gratuitamente dei servizi di consulenza legale e psicologica e di assistenza sociale. Ovviamente il tutto gratuitamente, per far sì che le donne escano dal circuito della violenza in un modo personalizzato e nel modo più veloce possibile. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, nel corso di specifici servizi di contrasto all'uso e spaccio di stupefacenti in via Piccola Conceria a Caltanissetta, hanno notato la presenza di un noto pusher nisseno, 21enne, già segnalato in passato per spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno proceduto a fermare il giovane e sottoporlo a perquisizione personale sul posto, che ha dato esito positivo. Infatti, celato in una tasca interna del giubbotto, hanno rinvenuto un involucro contenente 52 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che è stata sottoposta a sequestro. I poliziotti hanno proceduto a perquisire anche l'abitazione del 21enne con esito negativo. In considerazione dei precedenti specifici e del fatto che della sostanza sequestrata si possono ricavare un centinaio di dosi al consumo, il giovane è stato condotto in questura e dopo gli adempimenti di rito, denunciato è stato di libertà la locale procura della Repubblica per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Giuseppina Mannino, dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Manzoni-Iuvara di Caltanissetta. Sabato 11 marzo alle 18.15 parte nel suo istituto la 67esima stagione concertistica Amici della musica dedicata al maestro Giuseppe Pastorello. Qual è il connubio tra la sua scuola e l'associazione? Sì, la scuola che io dirigo è anche un liceo musicale e dunque è un'opportunità veramente grande collaborare con l'associazione Amici della musica del maestro Pastorello per dare proprio l'opportunità a musicisti giovani e anche meno giovani di fare musica a scuola, quindi di aprire la scuola al territorio e far sì che molta gente si avvicini e si accosti alla musica per il piacere di stare insieme e di ascoltare buona musica una musica che sicuramente coinvolge e che permette la socializzazione e che riesce veramente a dare alle nostre persone tanta serenità e tanta gioia. Il primo appuntamento come abbiamo detto sabato 11 marzo l'ingresso è gratuito, a cosa si potrà assistere? Sì, sabato cominciamo appunto come diceva alle ore 18.15 ci sarà una suonata pianoforte e altri ragazzi che si esibiranno quindi si potrà assistere a questo primo momento musicale seguiranno poi altri momenti musicali sempre di sabato alle 18.15 comunque è un momento importante per la scuola e per l'istituto Manzoni-Iuvara che come dicevo tra i suoi indirizzi c'è anche un liceo musicale un liceo che prepara proprio i ragazzi alla musica e al monto veramente grande e straordinario dei concerti. I ragazzi sono entusiasti del liceo musicale? Sì, i ragazzi siamo già al quarto anno, sono ragazzi di quarto anno sono molto contenti di questo indirizzo di studi che hanno intrapreso anche perché i ragazzi fanno strumento, studiano oltre alle materie curriculari d'obbligo ecco in un liceo anche l'opportunità di conoscere e di suonare due strumenti quindi a scelta proprio dei ragazzi. I carabinieri di Caltanissetta guidati dal luogotenente Angelo Continuo hanno arrestato in flagranza di reato all'interno della Villa Cordova di Caltanissetta uno straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari a pochi giorni dall'arresto di tre stranieri sempre all'interno della Villa Cordova hanno continuato mirati i servizi di osservazione dei movimenti all'interno della villa e nei suoi pressi fino a cogliere intorno alle 11.30 Musea Med 35 anni di origini somale richiedente asilo mentre cedeva dello stupefacente ascisce ad un giovane italiano originario di un paesino del Vallone che verrà segnalato alla prefettura di Caltanissetta quale assuntore di sostanze stupefacenti. Immediatamente bloccato dai militari in borghese presenti nella villa non ha opposto nessuna resistenza e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di altri quattro pezzi di ascisce del peso di un grammo ognuno oltre che a denaro contante il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato si trova ora ristretto presso il carcere di Caltanissetta quello di oggi è il quindicesimo arresto per spaccio dentro la villa Cordova operato dai carabinieri nei confronti di cittadini stranieri prevalentemente richiedenti asilo in altre operazioni più volte a finire nelle maglie delle forze dell'ordine anche pusher italiani. Consiglio Comunale giovedì 9 debito fuori bilancio Consiglio Comunale lunedì 13 proposta a stalli Consiglio Comunale giovedì 16 debito fuori bilancio Consiglio Comunale giovedì 23 debito fuori bilancio I gruppi consigliari di Caltanissetta del Polo Civico e dei Gentristi intendono rappresentare la difficoltà ad operare costruttivamente in Consiglio Comunale e in alcune commissioni consigliari infatti nonostante la necessità di un rilancio, di un riequilibrio e di una piena responsabilizzazione nel governo della città presupposto della ricomposizione della giunta politica l'insufficiente attività di coordinamento da parte del Presidente del Consiglio lo struzionismo di taluni Presidenti di Commissione che eletti nell'ambito della maggioranza hanno poi ripudiato il programma elettorale sottoscritto l'atteggiamento di una delle forze di maggioranza rendono farraginosa, difficile e non continuativa l'attività amministrativa e consigliare rallentando il progetto elettorale dell'alleanza e compromettendo di fatto il patto con i cittadini la rimodulazione delle commissioni consigliari che si trascina da mesi è una vicenda tecnica che giocoforza sta assumendo valore politico tale rimodulazione risponde esclusivamente alla necessità di portare a compimento tutti quegli atti necessari perché si concretizzi la parte fondamentale del programma elettorale la partecipazione effettiva dei cittadini sulle scelte amministrative l'assetto organizzativo e burocratico la gestione dei contributi e altri argomenti di carattere strutturale che non riguardano solo l'ordinaria amministrazione oggi l'attività consigliare risulta bloccata dal comportamento di una delle componenti dell'alleanza che sembra volere garantire consiglieri e gruppi d'opposizione incoerenti per alleanze di livello regionale anziché guardare al programma e a chi responsabilmente anche dall'esterno lo sostiene evidenziamo che ogni mobilismo derivante da situazioni estrane agli interessi della città e legate a posizionamenti per le prossime elezioni regionali è sulla dagli impegni politico-programmatici che tutte le componenti di alleanza per la città con i propri rappresentanti eletti o nominati si sono assunti il polo civico e i centristi nella caparbia volontà di garantire i diritti di tutti i cittadini nisseni coerentemente al mandato elettorale ricevuto ritengono da sempre prioritario il dare concretezza al programma elettorale che vede nella democrazia deliberativa l'obiettivo auspicato e dichiarano di non poter avallare equilibrismi da prima repubblica in tal senso nei prossimi giorni si chiederà al PD un chiaro pronunciamento sulle effettive intenzioni calta nissetta non si può permettere un'inerzia indotta o peggio giochetti di facciata per le aspirazioni personali di qualcuno o le incoerenze di qualcun altro Si è riunita l'Assemblea della Categoria Idraulici della Real Maestranza preseduta dal Presidente Angelo Palermo e dal Segretario Salvatore Gambino erano presenti quasi tutti i soci della categoria per eleggere le cariche di Alabardiere Porta Bandiera e Porta Baldacchino sono stati eletti per acclamazione Porta Bandiera Maestro Salvatore Gambino 48 anni Sposato con Sabrina Mannino è padre di Giuliana e Michele ha ricoperto la carica di Alabardiere nell'anno 2015 ed è l'attuale segretario tesoriere della categoria Alabardiere Maestro Antonio Di Forti 20 anni desideroso da alcuni anni di ricoprire questa carica nella sua categoria ampliando così la sua partecipazione alla Settimana Santa facente già parte del gruppo dei Fogli Amari Porta Baldacchino Maestro Giuseppe Palermo 23 anni partecipa alle processioni della Real Mestranza da più di dieci anni e ha ricoperto la carica di Alabardiere della categoria nell'anno 2016 figlio d'arte del neopresidente della categoria Angelo Palermo Gli agenti della Polizia di Stato del reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale di Palermo aggregati a Caltanissetta per l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio a Riesi hanno proceduto al controllo di tre giovani che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda Il mezzo che percorreva la via Ruggero VII è stato fermato dai poliziotti che hanno sottoposto a perquisizione personale i tre occupanti tutti di Riesi di un'età compresa tra i 20 e i 28 anni Uno dei passeggeri un ventenne ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un involucro contenente marijuana Il giovane dopo l'identificazione è stato segnalato alla locale prefettura per uso personale di stupefacenti Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro Per un'informazione costante scaricate l'app gratuita Giornale Nisseno E adesso vi lasciamo al meteo Per un'informazione costante